Ciao a tutti amici riders e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui in studio con Velko Stojnic dove ci racconterà la sua storia e il motivo per la quale ha scelto di rivolgersi a me con il posizionamento in bicicletta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao, mi chiamo Velko Stojnic e sono nato in Serbia e coro dal 2012. Quest'anno coro per la squadra professional team Koratek. Nel 2019 sono venuto qua in Italia nella squadra di Lettanti. Niente, nel 2020 ho passato professionista e lì ho sentito per Giovanni e me l'ha detto il mio compagno di squadra Alessandro Iacchi. Ho sentito che lavora con il Red Tool e la prima volta sono venuto nel 2020 e da lì mi sono trovato benissimo con la posizione che ha fatto. E niente, mi è risolto il problema con il mal di schiena che avevo nel 2020 e poi dopo l'infortunio di 2021 avevo problema col polpaccio e anche lì con la sua esperienza e professionalità ho trovato il modo di sistemare anche quello. Quindi ora diciamo che sono senza problemi e riesco a fare al meglio il mio lavoro.